12 orizzontale dice risolve controversie telefoniche, 7 lettere Coreco Giusto, 11 in giù, vigila sul rispetto della par condition nelle reti locali Coreco Coreco Ci sta 11 in là, rilascia padentino digitale Dai zio, Coreco Ma che fa tutto il Coreco? Tutto no, però fa parecchio Vai sul suo sito, vedrai quante soluzioni trovi per le tue parole crociate Ma le trovate a me, sennò cosa le faccio a fare? Ma cosa ridi te con questi capellini? E niente, c'è poco da fare, è Corecom anche i 16 in giù Certo, non faranno proprio tutto, tutto, ma parecchio sì Canzo è sto Corecom 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 anche i 16 in giù, ma parecchio sì Certo, non faranno proprio tutto, ma parecchio sì Certo, non faranno proprio tutto, ma parecchio sì